Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Il problema, e mi pare che l'abbia anche sentito dire lontanamente dal Ministro dell'Interno, è favorire gli accessi legali, perché non è giusto che una persona possa attraversare prima il deserto, poi le carceri libiche, poi il mare mediterraneo, rischiando la vita, dicendo poi al porto tu sì e tu no, perché tu sei in forma fisica e tu invece sei. E' un soggetto fragile, perché la distinzione fra esseri umani la fanno in altre epoche storiche altri soggetti che io onestamente non voglio più ricordare, neanche menzionare. Allora, questa è un'altra cosa importante. Questo è un punto. L'ingresso legale è possibile rivedendo la legge Bossi-Fini, aumentando quelli che sono i flussi di coloro i quali devono arrivare sul nostro territorio. Cassese, Minniti nel mio studio ieri ha detto che la Bossi-Fini va cancellata, se fosse chiamata Minniti e Minniti la vuole cancellare uguale. Sono passati 20 anni e non funziona, perché in effetti tutti i termini che usano i nostri governanti, clandestini, illegali, che sono anche tecnicamente esatti, però certo, se non ci sono possibilità di entrare legalmente, saranno tutti clandestini illegali, questi poveretti che rischiano la vita.